Ma quello è Rocca Willy! Si salvi chi può! Willy Musk, gambe! Oh no, c'è anche Capita Willy! E Willy Black! Insieme? Ma quanti sono questi Willy? Willy Dandy non finisce mai! Per forza, ce ne sono sei! E ti aspettano nel gioco box menu! Il menu per bambini di Burgi! Gioco box menu! Più gioco e più gusto di Burgi! Nessuno, nessuno ti dà!